buongiorno a tutti allora ero su su internet eccetera è venuta fuori la storia dell' fpf che forse lo tolgono eccetera ho trovato una bella intervista attraverso al guardian che praticamente andrea attraverso direttore della ricerca e stabilità finanziaria per conto della uefa quindi non è l'ultimo dei gerloni per intenderci quindi è uno che ne sa dopo ve la leggo ma prima il preambolone perché molti mi avete chiesto mi sono arrivati un po di messaggi gigi ci parli del di come andrà adesso col fatto che da zone perché ho fatto il video che da zona ha preso i diritti dal 2021 2024 quindi si inverte la situazione probabilmente sky avrà tre partite da zona avrà le altre sette poi si si metteranno d'accordo su quali saranno quelle di sky però molti mi chiedono ma l'anno prossimo si potrà vedere da zona ancora tramite sky sul canale 209 o bisognerà vederlo per forza sul con la smart tv o con il computer che poi si impalla succedono i casini eccetera eccetera e io gli ho detto ragazzi credo che neanche se chiami adesso te lo sanno dire perché hanno appena acquisito i diritti la questione partirà ad agosto perché il campionato italiano partirà ad agosto teoricamente metà agosto più o meno terza settimana di agosto e quindi ci devono organizzare anche loro devono sentirsi con non si sa ancora se il pacchetto 2 lo prenderà sky lo prenderà medias perché c'è in ballo anche il fatto che magari il pacchetto 2 delle altre tre partite lo prenda medias e sky decida di abbandonare un campionato che molti definiscono scarso di poco valore eccetera naturalmente per noi italiani è importante avere ma da zona è nazionale da zona è italiana tra virgolette nata per prendersi appunto poi qualcuno dice che da zona è comunque un sottoprodotto di sky che fan finta che sia esterna ma alla fine ancora sky e quindi magari sky se ne frega perché tanto prende i soldi anche tramite da zone e loro si preoccupano dei campionati inglesi campionato tedesco degli altri sport eccetera 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 quindi non so cosa succederà quindi ragazzi anche se io chiamassi sky per chiedere ma l'anno prossimo eccetera mi direbbero non lo sappiamo neanche noi fatto questo preambolo quando ci saranno le cose un attimino più chiare cercherò di spiegarvelo nuovamente poi comunque guarderò su internet se c'è qualche news ma non penso andiamo a vedere questo fatto che vogliono togliere appunto la parità di bilancio proprio per le questioni del covid andiamo a leggere cosa ha detto appunto questo andrea traverso le regole che compongono il far play finanziario si preparano a subire un drastico cambiamento con la norma chiave sul break even dichiarata senza utilità dalla uefa stessa lo riporta al quotidiano inglese the guardian spiegando che il covid ha portato a una crisi molto diversa da tutto ciò che sia mai stato affrontato secondo i funzionari le nuove regole dovrebbero concentrarsi sul livello degli stipendi dei club e sulle cifre spese sul mercato dei trasferimenti intervenendo oggi durante un incontro tra uefa e funzionari dell'unione europea andrea traverso direttore della ricerca e stabilità finanziaria per conto della uefa quindi non l'ultimo dei uno che proprio si occupa di quello ha detto che una soluzione non è facile e non dovrebbe esserci il presupposto che le nuove regole siano più morbide quindi attenzione non dovrebbe esserci il presupposto che le nuove regole siano più morbide quindi già quelli che pensavano adesso si può andare in rosso di 200 milioni e chi se ne frega facciamo lo squadrone no il covid 19 ha generato una crisi dei ricavi ha avuto un grande impatto sulla liquidità dei club questa è una crisi molto diversa da qualsiasi cosa abbiamo dovuto affrontare prima in una situazione del genere ovviamente i club stanno lottando hanno difficoltà a rispettare i loro obblighi ha spiegato attraverso penso che in generale le regole debbano sempre evolversi devono adattarsi al contesto in cui operano i club la regola del pareggio di bilancio che si chiama break even il modo in cui funziona ora guarda indietro esegue una valutazione di una situazione nel passato la pandemia rappresenta un cambiamento così brusco che guardare al passato sta diventando inutile ha sottolineato ancora quindi forse le regole dovrebbero concentrarsi maggiormente sul presente sul futuro e dovrebbero sicuramente concentrarsi maggiormente sulle sfide degli stipendi elevati e del mercato dei trasferimenti la soluzione a questo problema non è facile ha detto ancora il funzionario uefa l'organismo europeo ha avviato le consultazioni per giungere una riforma della ffp o fpf che dir si voglia fair play finanziario contraverso che ha affermato di aspettarsi un processo accelerato ma attento da completare entro la fine dell'anno quelli che dicono che le regole saranno abbandonate o allentate stanno solo speculando quindi quelli che appunto stavo dicendo che pensavano adesso si spende non ce ne dobbiamo più preoccupare del bilancio possiamo andare a comprare chi vogliamo a spendere 500 milioni per la campagna acquisti fa niente se fatturiamo solo 100 milioni all'anno usciamo in rosso così si vince no così finite in serie di perché fallite le regole possono essere diverse sicuramente aggiunge traverso ma questo non significa necessariamente che le regole saranno meno rigorose al contrario quando si verificano situazioni gravi spesso si richiedono misure più forti a concluso traverso quindi tutti quelli che pensavano adesso si spende se il ciape in del puli 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 al tacchino qua 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 locetta curu 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 va bene lasciamo perdere comunque io da ragioniere probabilmente si vedrà caso per caso si vedrà anche quanto fattura una società e in base a quello alla fine dell'anno cioè a giugno al 30 giugno di quest'anno in cui ci deve essere il pareggio bilancio diranno società a che fattura 120 milioni allora società a che tu fatturi 120 milioni mi devi stare nei 30 milioni di disavanzo quindi puoi uscire di 30 milioni quindi entro il 30 giugno del 2020 devi riuscire a stare nei 30 milioni perché tu fatturi 120 quindi ti permetto di uscire per un quarto del faccio un'ipotesi ai ragazzi può essere un quarto può essere il 50 per cento può essere il 10 per cento faranno dei parametri probabilmente per venire incontro alle società società b che fattura 200 milioni e 200 milioni 50 milioni un quarto diviso 50 milioni quindi dice società b che tu fatturi 200 milioni puoi stare uscire a giugno 30 giugno di 50 milioni eccetera 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 poi parte il nuovo mercato e ti dicono allora società a che fatturi 100 milioni tu sul mercato puoi investire un terzo del tuo fatturato totale previsto quindi 33 milioni se spendi di più ricordati che però l'anno prossimo al 30 giugno devi rientrare a riportare il pareggio di bilancio perché a giugno di quest'anno chiudiamo un occhio perché c'è il covid eccetera l'anno prossimo la scusa del covid probabilmente non ci sarà più quindi occio perché se è poi succedono che dobbiamo cazziarti e lo stesso faranno per le altre io credo che un'idea del genere potrebbe piacere alla uefa però io non sono nessuno per per decidere logicamente a quelli che sognano che la loro società possa di nuovo spendere spandere fottendosene altamente del bilancio non piace perché logicamente vogliono vincere logicamente leggevo i commenti degli interisti che sono abbastanza incazzati perché noi per sei anni abbiamo dovuto sopportare l'fpf adesso arrivano belli freschi e possono spendere spandere come vogliono anche se sono nelle stesse nostre condizioni di sei anni fa e la cosa capite che e non ci piace perché signori la legge legge se mi faccio vent'anni per aver fatto un determinato reato e poi dopo due anni dicono che quel reato lì a no chi se ne frega va all'acqua di rose arresti domiciliari capite che a una persona gli girano abbastanza le balle quindi io mi auguro che usino la testa che dicano signori miei vi permettiamo di ma questo non significa che poi potete spendere quello che volete dovrete stare sempre dentro dei parametri avete un quid in cui potete manovrare il rosso di bilancio ma deve stare sempre dentro dei parametri ben precisi e se gli sforrate sono sanzioni ma non pecuniarie sono sanzioni che non partecipate alle coppe e cose sia o non fate mercato e deve essere rigoroso non che al city al pari san germain non fa niente poi lo fa il lì o il il ren o che ne so lo fa l'atalanta non lo farà perché l'atalanta è lì già ma vi faccio degli esempi di squadre tra virgolette meno importanti di un city di un pari san germain e lì li cazzano e perché non va bene comunque fatemi sapere voi cosa ne pensate se siete d'accordo con me di questa idea mia di fare dei parametri in cui una società deve stare dentro può permettersi di andare in rosso di bilancio ma fino a un certo punto e poi sul mercato può non non è che sfruttando quel fatto lì avrei visto che mi lasciate stare in rosso posso spendere anche 300 milioni perché se no capite che la questione non va bene cioè se è giusto che ci siano dei parametri chiari per tutti delle regole chiare per tutti e appunto questi piccoli accorgimenti vista la situazione ma che una volta che la situazione torna alla sua normalità riavremo gli stadi pieni e le società cominciano a fatturare come dio comanda a fine anno il pareggio di bilancio deve esserci detto questo vi saluto vi ringrazio e ci vediamo naturalmente ai prossimi video ciao